Siamo arrivati alla quarta parte, ora proviamo questa cassa qui che gli ho fatto una specie di acustica con questo tipo quelle sorprese là degli ovetti, quelli di password. Una Pioneer 10W RMS e 30-40 massimi. Siamo arrivati alla quarta parte. Siamo arrivati alla quarta parte. Ecco questo è un woofer Zeus un po' duro. Siamo arrivati alla quarta parte. E qui dentro un pallino ci sono residui di colla. Infatti se lo abbasso. Sto teleflusso sto scaricando rompendo. Questa invece è una cassa di una tv. Spesso da che è finita la canzone la rimetto. Siamo arrivati alla quarta parte. 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 Alla quarta parte.